Alla settima e ultima del convegno, per fortuna la pioggia si è fermata, ci ha risparmiato queste ultime due corse. Partono subito i saluti a Lele e Fabrizio, Fabri, che ci hanno fatto compagnia per tutto il pomeriggio, seppur uggioso, dallo studio qui della mia postazione, il sempre prezioso Emilio, e un Anziani, dove il notto l'Holmerbride non corre, sul 14 c'è Ciro De Cristofalo. Sì, il CRFKS è il più gettonato. Avvia la macchina in velocità. Alla chiusura emerge Sorrento, che scende lungo i birilli nei confronti di One Way AS, Cavalli che affrontano la piegata e si completa il lancio in 13.8 per il targato Lewis. Allargo Rocaf, che è rimasto nasino al vento, e viene a chiedere strada. Si completa la piegata e anche i 400. Sta passando 29.4, Rocaf al comando. Risale SRFKS e SR con Minopoli viene anticipato da Sorrento. Ci sarà un probabile classico freeway, come lo volete chiamare. 44.2 da 1.14, passa il Lewis e così SR ora si ritrova a largo di Orocaf. Si completa il mezzo miglio iniziale in 59.6, 15.4 di frazione, Sorrento al comando SR a largo di Orocaf, poi One Way AS e via via tutti gli altri. Si migliora l'allievo di Minopoli, 13.6, niente male il chilometro, 14 di frazione. Pochi argomenti per Orocaf, non era tanto luccicante questo Oro oggi. E Sorrento ancora con buon margine su SR, 14.1, 1.27, 7, i tre quarti di miglio con Sorrento in fuga. SR, One Way, si completa la piegata, Sorrento Lewis al comando. SR ci prova, ma a largo interviene Sor Bruno, Sor Bruno va sul duo di testa, è incisivo Amitrano, questo Amitrano, Sor Bruno, Sorrento, SR, FKS. Gli altri hanno seminato, ma chi ha raccolto è questo Amitrano che non finisce di stupire, 1.58, 1.13, 8, 9.96 in chiusura per questa bella affermazione di spunto di Sor Bruno, mentre Sorrento si difende a denti stritti e costringe il giudice alla fotografia. Sor Bruno, no problem, no stress, all'ultima. Grazie ancora, venerdì prossimo. Le corse sono finite, andate in pace. Buonasera a tutti. Grazie a tutti.